In Small Island vestirai i panni di un esploratore appartenente a una tribù che attraverserà l'immenso blu per scoprire nuove isole dove troverà porti, risorse naturali e templi di un'antica civiltà. A seconda dei tuoi obiettivi dovrai attendere il momento migliore per sbarcare con la nave, piazzare le capanne su diverse isole dell'arcipelago e diventare il più grande esploratore, ovvero il giocatore che avrà guadagnato più punti prestigio alla fine del gioco. Il gioco è diviso in round, ciascuno suddiviso in tre fasi, preparazione esplorazione, ricompensa. Fase 1, preparazione. Pesca 6 tessere terra dalla riserva senza guardarle e posiziona le coperte sulla tessera navigazione per formare la pila di navigazione. Se ce ne sono meno di 6, la partita termina immediatamente. In alternativa ogni giocatore pesca segretamente due carte obiettivo per averne tre in mano. Ne sceglie una per il round in corso e ne mette una da parte per il round successivo posizionando su di essa una delle sue capanne come promemoria. Infine scarta la terza a faccia in giù. Fase 2, esplorazione. A partire dal primo giocatore e proseguendo in senso orario, ogni giocatore dovrà eseguire una delle due possibili azioni. Esplorare o sbarcare. Esplorare. Prendi una delle tre tessere terra scoperte e aggiungila alla tua mano. Quindi piazza una delle tue tre tessere. Puoi scegliere l'orientamento, ma attenzione, deve sempre avere un lato adiacente ad un'altra tessera. Allo stesso modo il disegno dell'arcipelago deve corrispondere sui lati e sugli angoli. Un'isola è composta da diverse tessere terra adiacenti l'una all'altra solo nei lati. Una volta posizionata la tessera, puoi, se lo desideri, mettere uno dei segnalini bonus su qualsiasi tessera già in gioco. Questo è facoltativo. I segnalini bonus hanno due facce. Una faccia risorsa che può essere posizionata sopra ad un'altra risorsa o un altro segnalino bonus. Ad esempio, il segnalino fiore può coprire una risorsa foglia e una faccia porto può essere posizionata sulla costa di un'isola. Ricorda, non ci possono essere più di due porti sulla stessa tessera. Puoi piazzare solo un segnalino bonus per turno. Infine, sostituisci la tessera terra che hai appena preso con una nuova dalla pila di navigazione. Se questa è esaurita, prendila dalla riserva. Quindi è il turno del giocatore successivo. L'altra azione possibile è sbarcare. Puoi eseguirla solo se la pila di navigazione è esaurita. Per farla, prendi la tessera nave del tuo colore e piazzala secondo le stesse regole di piazzamento delle tessere terra. Se non puoi piazzare la tessera nave, non puoi eseguire l'azione sbarcare e devi continuare a esplorare. Piazzare una tessera nave mette immediatamente fine alla fase esplorazione. Se nel tuo turno non puoi giocare perché non ci sono più tessere terra scoperte e non puoi piazzare la tessera nave, allora tutti i giocatori eseguono immediatamente un'ultima fase ricompensa iniziando da te. Poi il gioco termina. Fase 3. Ricompensa. A partire dal giocatore che ha piazzato la tessera nave e proseguendo in senso orario, ognuno esegue una volta la fase ricompensa. Questa consiste nel piazzare le proprie capanne per guadagnare punti prestigio. Quando è il tuo turno, rivela la carta obiettivo che hai scelto per questo round. Questa è composta da due parti. A sinistra la missione e a destra la ricompensa. La missione ti indica la condizione necessaria che un'isola deve avere per poter piazzare una capanna. In questo caso l'isola deve avere almeno un tempio e due fiori. La ricompensa ti indica i punti prestigio che guadagnerai per ogni isola in cui piazzi una capanna. In questo caso guadagnerai un punto prestigio per tempio e un punto prestigio per fiore. Dopo aver rivelato la carta obiettivo, potrai posizionare una o più capanne sulle isole di tua scelta. Importante, non è obbligatorio piazzare le capanne. Questa è una scelta strategica. Per piazzare una capanna dovrai rispettare queste regole di piazzamento. Vuoi piazzarla solo su un'isola che rispetta le condizioni indicate dalla tua missione. L'isola deve avere uno spazio per capanna e non deve avere già una tua capanna. L'isola deve essere composta da almeno due tessere terra, ma non deve obbligatoriamente essere completa. È possibile piazzare una capanna anche su un'isola non vicina a una nave. Per ogni isola in cui metti una capanna guadagni i punti prestigio indicati dalla ricompensa. Poi prendi le capanne dalla riserva fino ad averne un massimo di 4. Infine scarta la carta obiettivo a faccia in giù. Se tutte le tessere nave sono state piazzate, la partita termina immediatamente. Altrimenti mescola le carte obiettivo per formare un nuovo mazzo a faccia in giù. Il giocatore successivo a quello che ha appena piazzato la tessera nave diventa il primo giocatore per il prossimo round. Gioca un nuovo round iniziando con la fase preparazione. Fine del gioco e punti prestigio. Il gioco termina quando accade una di queste tre situazioni. Durante la fase preparazione se non ci sono nella riserva 6 tessere terra necessarie a formare la pila di navigazione. Durante la fase esplorazione se nel tuo turno non puoi giocare perché non ci sono più tessere terra scoperte e non puoi piazzare una tessera nave allora tutti i giocatori eseguono immediatamente un'ultima fase ricompensa a partire da te. Alla fine della fase ricompensa se tutte le tessere nave sono state piazzate. Punti prestigio. Ogni giocatore calcola il totale dei suoi punti prestigio sommando. I punti prestigio guadagnati durante il gioco, i segnalini scoperta, più un punto prestigio per ogni porto situato sulle 8 tessere che circondano la propria nave. Il giocatore con più punti prestigio vince la partita. In caso di pareggio il vincitore è il giocatore che ha piazzato più capanne. Se la parità persiste è il giocatore col maggior numero di porti sulle 8 tessere che circondano la propria nave. Se la parità persiste ancora è l'ultimo giocatore ad aver piazzato una tessera terra o nave. Grazie e buon gioco!